Grazie Non è di vedere, l'ha portato al successo Ray Charles come Messorano, ma in realtà... E' il nome Sant'Agata Poi! Gli ha scritto il testo nel nuovo, ma in realtà è un pezzo che si chiama Kao Kao Boogie Muka Muka Boogie Scritto da un tipo che si... E' vero eh, lo registro Scritto da un tipo che si faceva chiamare Kao Kao Davenport Muka Muka Davenport Allora scusami Gli ha scritto da 2.15 Ok, comunque Messorano, però noi lo suoniamo né nel modo di Kao Kao Davenport Nel modo di revenciarsi Chi se ne sa, vai vai tranquillo Lo suoniamo alla New Orleans Style, tipo cioè così Ci siete? Si Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti.